Adesso vi voglio parlare di Dolce Vita Shop, l'azienda che si trova a Lugano, ma in particolare si tratta di un'azienda che si trova a Campobello di Mazzara, Nocellara del Belice CH, dove esporta tutta la merce siciliana delle nostre parti a Lugano, quindi Svizzera. Allora, innanzitutto qui abbiamo l'olio Nocellare del Belice, famosissimo ed è anche buonissimo. Allora, qui abbiamo le olive verdi incisi in salamoia, quindi c'è acqua, olio e sale. Ovviamente tutto è confezionato in sottovuoto, in modo tale da poter mantenere la freschezza del prodotto. Poi abbiamo le olive nere infornate, i cosiddetti passoluni, questi sono fantastici. poi abbiamo le olive nere in salamoia, poi le olive verdi dolci in salamoia, anche queste sono fantastiche. infine abbiamo le olive verdi schiacciate in salamoia. Allora, ragazzi, vi faccio vedere nel dettaglio tutti questi tipi di olive che sono appunto della provincia di Trapani, provengono da lì, precisamente da Campobello di Mazzara e vengono esportate appunto qui in Svizzera. Quindi siccome ci sono delle persone che mi seguono in Svizzera, se volete appunto assaggiare le olive siciliane ma anche l'olio, vi consiglio di contattare questa azienda che vi taggerò qui sotto. Io ringrazio Nocellare del Belice CH per questi prodotti, veramente, perché appunto mi ha portato nella mia terra e quindi sono veramente felicissima. Ovviamente li esagerò ma li conosco perfettamente e quindi ragazzi poi quando li aprirò voi sarete partecipi di tutto ciò.